Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come aggiungere un altro account Instagram. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come aggiungere un altro account Instagram. Ora aggiungiamo un altro account Instagram e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione Instagram e semplicemente toccarla. Una volta aperta l'applicazione delle impostazioni, ragazzi, vi indirizza qui. Quindi qui quello che farete è semplicemente creare il profilo nell'angolo in basso a destra, come potete vedere. Ora qui tocchiamo le tre linee nell'angolo in alto a destra, come puoi vederle. E tocca impostazioni. Ora tutto ciò che dobbiamo fare qui è scorrere fino in fondo e potrei vedere la possibilità di disconnettersi o aggiungere un altro account. E qui toccherò aggiungi account qui. Quindi, come vedi, posso accedere a un account esistente che è già stato creato oppure posso crearne uno nuovo se non ne hai già uno. Tocca creane uno nuovo. E qui in pratica inserirai il nome utente e la password e tutta quella roba e verrà automaticamente configurato un nuovo account per te in modo che tu possa gestire e destreggiarti tra questi due account. Allora se esci di qui e tocca aggiungi account. Quindi qui tocca semplicemente accedi a un account esistente. Quindi qui ti darà la possibilità di accedere al conto corrente che hai se ne hai uno diverso. Quindi, segui questo processo e se vuoi passare da uno all'altro tutto ciò che devi fare è toccare disconnetti in fondo. E mostrerà facilmente e rapidamente entrambi i profili in modo che tu possa passare da un account all'altro. E questo è tutto, ragazzi, i passaggi e le modalità su come aggiungere un altro account Instagram. Grazie per aver guardato.